Ebbene si ragazzi, ci risiamo con un nuovo vlog del canale dei vlog Allora, una cosa prima di iniziare Si, stimatemi moltissimo Pretendo dei messaggi veramente di supporto Anche perché sono riuscito a prendere l'influenza a maggio E credo che non ci sia persona al mondo che riesca a prendere l'influenza a maggio Allora, di cosa parlerà questo vlog? Innanzitutto, intanto spacchettiamo il catalogo di EMP Che mi è arrivato Così vi informo se c'è qualche novità rilevante Non sembra Comunque, di cosa andiamo a parlare? Oggi andiamo a parlare del fatto che Ho perso praticamente la mia vita sociale Perché ho scoperto che per niente di importante Sul catalogo che tra l'altro riporta Slash in copertina Come se importasse a qualcuno di Slash Ho trovato per il mio cellulare Che è Nokia N8 Una cosa che ora mi ha sconvolto Che è questo programmino Che so farò partire Che si chiama GP Adesso non vedrete nulla per la luminosità Comunque si chiama GPSP Symbian E che cos'è questo GPSP Symbian? Semplicemente un emulatore Del Game Boy Advance Per l'N8 Per tutti i cellulari Nokia che supportano Symbian Ed è una cosa veramente fenomenale Anche perché Non so se riuscite a capire di che titolo si tratta Ma sicuramente se siete esperti Lo capirete Game Freak Vabbè è chiaro che titolo è no? Si tratta di Pokémon Rosso Fuoco Ci sto veramente perdendo le ore Contate che in una giornata Ho giocato due ore e 47 E contando Intanto sentiamo clacson fuori da Da casa mia E c'è praticamente Adesso mi dispiace che non riuscite a vederlo Però si Praticamente funziona proprio come se fosse il Game Boy Originale no? Scorrete Adesso voi Avete i comandi a schermo Funziona proprio come Un emulatore normale Avete le ROM dei giochi Ho scaricato anche Metroid Adesso ogni volta che si prova a cambiare Rom Crash Però è una cosa comprensibile E vedete Metroid Zero Mission O Metroid Zero Mission Per la precisione E vabbè quindi volevo rendervi partecipi di Di questa cosa Volevo ringraziare Quelle 50 persone che hanno visto il mio primo vlog Perché non me lo aspettavo veramente Le cose da dire Finiscono qui Domani farò l'esame delle CDL Se non sapete che cos'è le CDL È la patente europea del computer Dopo di Dopo aver superato questo esame Potrò guidare i computer Da quanto ho capito E niente Ho l'influenza Se si può avere l'influenza maggiore Ragazzi Ditemelo voi Se si può avere l'influenza Perché se si può Allora mi metto l'anima in pace È possibile che c'ho l'influenza Un giorno E una volta ogni tre giorni Vabbè Se avete dei rimedi della nonna Ah Dimenticavo C'è tante robe da dire Sono andato a vedere American Pie ancora insieme Ragazzi Anzi American Reunion Che meglio Andate a vedere quel film Andatelo a vedere Perché è veramente qualcosa di fenomenale Se avete visto gli altri American Pie Non potete assolutamente perderlo Intanto Ci metterò il qui Che mi inquieta e quanto Andate a vedere Non potete perdere L'ho richiamato tutti Ci sono tutti C'è Nadia C'è Sherman Ci sono i due ragazzi delle Mie Ci sono tutti È veramente qualcosa di fantastico Nel frattempo salutiamo L'antennista di Sky Che è nella stanza Limitrofa alla mia Che sta installando Per l'appunto Sky Che non pare funzionare E quindi Niente ragazzi Grazie per aver visto Anche questa volta Il secondo giorno di lag E niente Ciao a tutti